La cosa più bella che c'è in tanti attori, registi, produttori spagnoli e messicani è lo spirito di unione, di collaborazione, di unire le proprie forze. Noi italiani ci siamo un po' persi per diversi anni, non perché sei qui davanti a me, ma il fatto di riunire con dei festival, con delle feste di cinema che possono riunire e dare vita e valore al cinema italiano e al cinema unito, al cinema internazionale, sicuramente sta creando un interesse maggiore. Qualche cosa è scattato con Muccino, Muccino ti ricordo che il suo interessamento da parte di Will Smith è scattato attraverso un'intervista che fece Will Smith a Venezia, che però era comunque in una situazione di festival, a Sanremo, dicendo che lui gli era piaciuto l'ultimo bacio che avrebbe voluto lavorare con Muccino. Vedi che comunque quando ci sono queste comunicazioni, questi incontri, queste magie che accadono, automaticamente le cose succedono e questi festival, l'unione, l'attenzione, l'unione anche tra di noi italiani che è importante, è una cosa che sicuramente può creare un polo, un interessamento da parte del cinema italiano sul nostro cinema e grazie a questi festival sicuramente si farà sempre di più.